Ormai dopo quasi un anno a Sydney ti possiamo considerare Sydneyiana, raccontaci un po' com'è la vita lì. Allora Sydney è senza dubbio una città molto affascinante, quando uno arriva è proprio rapito dalle bellezze soprattutto geografiche, dal parco, dai botanicali meravigliosi, poi ci sono sempre un sacco di attività, uno non si stufa mai perché, non so, per l'Australian Day c'è il mega festone a Bondi in spiaggia con gli infraditoni giganti, quindi è molto bello da vedere, oppure poco tempo fa c'è stato il Vivid, per me è stato un peccato che fosse così freddo in quei giorni in cui l'hanno fatto perché è veramente uno spettacolo interessante, quindi giochi di luce, colori, eccetera, con la musica, bellissimo, quindi insomma attività ce n'è sempre, concerti a valanghe, soprattutto nel periodo estivo, pieno di spiagge, per cui uno che abita in centro prende un autobus qualsiasi e fa la grande mezz'ora di strada alla spiaggia, quindi c'è tutto. Uno deve fare una scelta in base a che tipo di vita vuole fare, nel senso se ti piace divertirti sai che comunque hai dei costi, nel senso Sydney è cara, quindi è cara sia dal punto di vista di fare la spesa come anche di andare a bere fuori, mangiare fuori, non è come in Italia, se in Italia certi posti sembrano cari qua è tutto molto più caro. Andiamo sul pratico, dacci qualche esempio, non so, l'affitto, la spesa? Non so, l'affitto per dire, io ho abitato in due posti diversi, a Marubra, che è una carità di mare, a 40 minuti più o meno da Sydney, e poi ho abitato a Sydney centro, a Sarils, a Sarils pagavo 180 dollari a settimana, in una doppia con un'altra ragazza che avevo conosciuto a Marubra, in una casa in cui eravamo in dieci, quindi insomma abbastanza sovraffollato, io ho abituato a vivere da sola, è stato non semplice, convivere con così tante persone, però se trovi il gruppo giusto può essere anche divertente, nel senso che poi è un'altra festa molto famosa specialmente per la popolazione gay, in cui Sydney è molto ricca, perciò se c'è qualcuno che vuole venire qua apposta per quello sappia che in quel preciso periodo dell'anno va sul sicuro. Comunque tu sia gay o no è una bellissima parata a cui prendo parte, perché io per esempio con i miei amici mi sono travestita, messa in maschera e la gente per la stata ci fermava, ci faceva le fotografie, è stato molto divertente. Quindi sì, l'affitto più o meno è quello, puoi trovare a meno ma magari sei 4-5 in camera oppure puoi dormire in soggiorno, dopo sono capitati cose così. I trasporti sono cari, perché una corsa di autobus semplice costa un paro di 1,80 dollari, quindi puoi fare abbonamenti eccetera, però insomma è abbastanza costoso. Chi ha la fortuna di essere student, fortuna dal punto di vista, è a fare lo student full time, ha diritto allo sconto per student, quindi l'abbonamento dell'autobus costa un po' meno. Andrà a bere fuori costacchia, perché se in Italia uno shot di tequila, ipotesi, lo paghi sui 3 euro, lo paghi dagli 8 dollari in su, quindi è un po' diverso. Anche andare a mangiare la pizza in Italia ti sembra magari tanto, 8 euro, 9 euro per una pizza, qua una pizza dove lavoravo io nel primo posto, è la più economica, costa 16 dollari, però ce ne sono 6 tipi. Se vai ad Allen Harbour, che è notoriamente conosciuto come uno dei posti più cari, una pizza ti costa 624-26 dollari, quindi, insomma, bisogna che uno sappia gestirsi, perché magari lavori tante ore e poi scialacqui in due serate. Sì. Un ragazzo appena arrivati dall'Italia, arrivati a Sydney, come possono trovare lavoro? Cosa ci consigli? Allora, io ho sempre detto a tutti che poi è quello che tutti fanno per cercare lavoro. Sono due cose che puoi usare, diciamo, in combo. Una è quella di armarsi di tanta pazienza, prendere i tuoi curriculum e andare in giro per magari anche le zone quelle più battute, che comunque hanno un grande ciclo di personale, come Allen Harbour o CBD, ci stiamo parlando di Sydney, ovviamente. Oppure puoi anche cercare online. Ci sono tanti siti che offrono lavori come Gantry. Su Gantry, però, tanti annunci magari non sono aggiornati, oppure hanno tantissime visualizzazioni, quindi magari tu lo vedi, ah, è stato postato dieci minuti fa. In realtà poi ha avuto 80.000 visualizzazioni, per cui secondo me è un po' è un po'. Perché io il primo lavoro l'ho trovato tramite comunque conoscenze. Cioè, ne so, avevo degli amici che sapevano che cercavo lavoro e mi avevano la mano. Mi hanno detto, guarda, vieni fa la prova. Il secondo lavoro invece, per esempio, l'ho trovato su Gantry, che non avrei mai detto in vita mia e invece l'ho trovato così. Quindi, insomma, bisogna essere un po' propositivi e soprattutto ci possono essere dei momenti che sono duri. Che dici, cavolo, sono andato qua, sto spendendo una borsa di soldi, come faccio? E non bisogna mollare. Bisogna dire, vabbè, insomma, appunto, è così grande questo posto, è possibile, non ci sia un posto di lavoro per me? Ci deve essere. E poi dipende, appunto, se non ci sa adattare un attimo, perché comunque non tutti i lavori sono easy. Sono dei lavori che richiedono tanto sforzo fisico, nel senso, stargli per tante ore. Tanti poi magari ti fanno lavorare anche 14 ore al giorno, come è capitato a me. Che da un certo punto di vista può essere anche positivo, perché comunque sai che con 14 ore è un bel monte ore, quindi parte a casa dei soldini discreti. Anche lì, insomma, va a seconda della persona. Insomma, questa esperienza, alla fine, se dovessi valutare pro e contro, cosa diresti? Allora, premetto che secondo me è un'esperienza che andrebbe fatta comunque da giovani, nel senso, io consiglio a tutti i ragazzi che hanno finito l'università o che dopo le scuole superiori non sanno cosa fare, venite qua. Nel senso, se avete in mente di viaggiare, cioè, tra l'altro, finché siete giovani, che ancora non siete usciti di casa, quindi anche stare con 10 persone sembrerà fantastico, perché comunque non sei a casa con mamma e papà. è un po' più dura per chi, come me, magari stava da solo e quindi si deve riabituare a condividere gli spazi. Il pro e il contro? Pro sicuramente ho capito molto di più quanto avevo a casa prima. Le cose di tutti i giorni, come, non so, prendere la macchina per andare a fare la spesa o comunque poter scegliere quale vestito mettersi o che scarpe mettersi, qua purtroppo ovviamente la scelta è limitata. Lo so che potrebbe anche suonare ridicola come cosa dove si pensa ah, vabbè, sei in Australia che ti frega delle magliette. Eh, però quando sei qua da tempo, insomma, anche quello ha il suo peso. E quindi appresto molto di più quello che avevo a casa prima. Come ho capito quanto importanti sono i miei legami per la famiglia, tanti che sono qua da anni è perché, per esempio, a casa non hanno dei grandi rapporti familiari o comunque non sentono la necessità di stare con i loro parenti. Io invece mi sono resa conto che la mia famiglia è importante. E l'ho capito comunque venendo qua. Probabilmente stando a casa non ci sarei arrivata. E poi come però che comunque i posti sono meravigliosi. Sono posti che non vedrai a casa tua. E io ogni volta che andavo, non so, ai Botanic Gardens cercavo proprio di rubare pezzi di ricordi perché sapevo che posti così probabilmente non avrei più avuto l'occasione di vederli. Quindi anche poi se parliamo in termini di relax o comunque di vita meno stressante, qua è meno stressante. Poi, per carità, se uno fa un lavoro normale come faceva a casa, lo stress c'è sempre. Però puoi trovare dei tuoi momenti di serenità. Contro è che qua effettivamente tutto è molto caro. Poi quando arrivi non sai dove sbattere la testa fondamentalmente perché devi ancora trovarti un lavoro. Quando prendi un appartamento o comunque una camera da qualche parte hai bond da dare, affitto da dare. Quindi sono soltanto i soldi che escono. E quindi non si può essere troppo focalizzati sul portafoglio all'inizio. Non lo devi mettere in conto che comunque i soldi se ne vanno. Però ha un conto se non ci pensa perché... Poi magari il contro è che se tu vuoi metterti da parte qualcosa in una città che appunto è molto costosa. Devi lavorare tanto e uscire poco. Quindi sai che magari uscirai una o due volte a settimana. Se hai la fortuna di non lavorare a fine settimana, di non svegliarti alle sette di sabato e domenica come dovevo fare io. Contro appunto che ti mancano le tue cose, la solitudine ogni tanto è una bella botta. perché qua fai tantissime amicizie che tra l'altro sono un bagaglio culturale molto molto grosso. Sono una fetta di questo viaggio. Conosci persone da tutto il mondo. Quindi ti troverai a vivere con i cinesi, i messicani, i francesi, i spagnoli, che più ne ha più ne metta ed è bellissimo. Poi è molto divertente che avevo due compagni di casa spagnole e con loro potevo parlare italiano che mi capivano lo stesso e loro parlavano in spagnolo e io lo capivano lo stesso. E' divertentissimo. E quindi sì insomma c'è una serie poi di conto con tutte le cose. Poi ripeto sempre l'esperienza è personale. Io posso venire qua con tutti i buoni presupposti, essendomi informata, ma trovare un insieme di coincidenze, un insieme di concause che magari rendono il mio soggiorno una schifezza. Come posso anche arrivare qua completamente preparato e perché ho il colpo di fortuna posso trovare un lavoro fantastico, amicizie eccetera. Per cui insomma...